Sono Michele Russo, sono un ragazzo del Sud, lavoro con iSud da poco tempo, da quando è iniziato tutto questo grandissimo progetto. Mi ha coinvolto in più settori, in primis mi occupo della parte commerciale della piattaforma, quindi di iSud, e in secondo luogo costruisco musiche o jingle per tutto quello che è la costruzione magari artistica della piattaforma. Sono molto felice di poter partecipare a questo progetto che, pur essendo molto ambizioso, lascia davvero tante speranze e dà tante opportunità, non solo per me ma anche per tanti altri ragazzi che collaborano con noi. Occupandomi della parte commerciale cerco opportunità aziendali che hanno la voglia di poter portare i propri prodotti oltre che sul territorio nazionale all'estero, quindi cercare imprenditori che abbiano la stessa voglia nostra di poter dare una nuova linfa ai nostri territori. È una sfida bellissima che ho accettato e che sono davvero molto orgoglioso di poter portare in avanti. Per quanto riguarda la musica è stato strano, ho iniziato tutto così per caso, avendo prodotto un brano così fatto in casa attraverso un sistema informatico e qualche strumentino che tenevo così per passione. Ho iniziato a fare questo piccolo pezzettino che praticamente è rientrato nella parte centrale del teaser iniziale di Aisud e mi ha lasciato davvero molto felice e anche molto orgoglioso del lavoro che ho prodotto. La cosa più bella è quella di poter continuare a dare la mia esperienza e tutta la mia gratitudine e anche tutta la mia preparazione verso quello che è Aisud e verso chi la compone. Grazie a tutti.